Mamma mia ragazzi, chi se lo aspettava questo Wonka di Paul King con Timothée Chalamet, Olivia Colman e Hugh Grant. Posso dire che è un gran film, mi è davvero piaciuto, mi è davvero convinto, è una grande sorpresa perché è sì quel film di Natale che noi ci aspettiamo, perché lo è, ma allo stesso tempo non lo è, perché riesce a essere interessante e a coprire la maggior parte dei grandi difetti che questi film hanno. Certo, se vi aspettate un Willy Wonka un po' cattivello alla Jane Wilder, ma non è quello che cercate. È un po' meno strano del Johnny Depp, ecco, sempre Wonka, ma è un film che si sa difendere, si sa differenziare dai film del passato, perché questo è il terzo remake, credo, nel senso che ha una storia diversa, perché non tratta della fabbrica di cioccolato, che non è nel titolo infatti, ma tratta tutt'altro, ok? Quindi io lo consiglio tantissimo. Salve, sono Arcaline Hammer, sono qua, vi ho portato il primo spettacolo delle due e alle cinque è già online, quindi solo per questo iscrivetevi e supportatemi perché è un gran lavoro e sono uno dei pochi che lo fa, quindi dovete supportarmi con un commentino e schiacciate la campanellina per rimanere aggiornati i suoi sui video. Ce la farò, ce la farò. Detto questo, di che parla Wonka? Sembra facile, in realtà è un film, la mia prima copertina era marxista, nel senso che parla questo Wonka? Sì, Willy Wonka che arriva in questa capitale, di questo regno, non so bene dire che cosa sia, e arriva per vendere il suo cioccolato, ma lui è un genio, è un mago, è bravissimo a fare il cioccolato, piace a tutti, ma la sua scalata viene fermata quasi immediatamente e per tutto il film, nel senso che c'è una cricca di tre cioccolatai che lavorano nel centro di questa città, in questa galleria bellissima che mi ha ricordato il Duomo di Milano, dove c'è la galleria del Duomo, che non vogliono che lui venda, perché al suo primo spettacolo senza un negozio attira subito i clienti, e questa sarà una lotta contro il sistema dove essenzialmente si specula, è una lotta contro il capitalismo, certo, nel senso che essendo un favolone di Natale, tutto molto esasperato, e quindi il tema è banale, vogliamoci bene, non pensiamo ai soldi, ma alla magia del fare cioccolato, e quindi di rendere le persone felici, questo è il solo grande difetto, che però viene messo in secondo piano, perché se voi vi aspettereste da un film del genere, i difetti come, è un musical, tantissime canzoni, quindi due ore, dite vabbè ma che palle due ore, metà del film è canzoni, sì quasi, ma le canzoni sono ben contestualizzate, perché la narrazione non va lenta per vedere le canzoni, perché che cosa capita di solito, su due ore dici, ah ok, un'ora e un quarto è di film, e 45 minuti di canzoni, invece qua le canzoni sono ben contestualizzate, sono anche orecchiabili, belle le varie coreografie, sono coinvolgenti, non è il mio genere sicuramente, quindi dopo un po' mi sono anche un po' annoiato, però sono coinvolgenti, quindi sicuramente funziona, e questo si lega al lato tecnico di Paul King, che ha fatto i due Paddington, che non ho visto, molto ben fatto, nel senso che è una regia buona, elegante, che funziona, che ti mostra quello che succede nelle varie location, che sono diverse fra di loro, e devo fare un applauso per l'uso dei colori, della fotografia, dei costumi, e di tutto l'impianto estetico di questo film, che è davvero accattivante, catchy, come le musiche, come i balletti, e come anche gli attori in gioco. La storia, poi andiamo sugli attori, in chiusura, la storia è certo classica, dove c'è un cattivo da detronizzare, un gruppo di cattivi, un sistema da detronizzare in favore di un popolo che deve riscattarsi, che deve ritrovare la felicità, ma c'è una costruzione certo classica, ma funzionale, dove i personaggi evolvono in maniera interessante e intelligente. Quindi, tutto ben costruito, con un inizio dove conosciamo anche meglio questo protagonista, Wonka, che nonostante non si sappia tantissimo, ma i fondamenti del suo carattere, le ragioni per cui fa quello che fa, sono ben chiarite e ben contestualizzate nella storia, perché incontra gli altri personaggi, questo gruppo di persone, senza fare spoiler, con cui deve rovesciare il sistema, quindi crescono anche questi personaggi secondari che, sì, non sono troppo approfonditi, ma tutto sommato vengono esplorati, soprattutto uno, questa ragazzina di colore molto giovane, con cui i due, quindi Wonka e questa Noodle, hanno un gran bel rapporto, secondo me, e ci, a me almeno, che non sono facile, mi ha anche commosso sul finale per un paio di elementi davvero interessanti su due personaggi. Quindi, storia, facciamo un riassunto, classica, super classica, ma scritta bene, due ore che non pesano con le musiche e con i momenti del canto, musical, quindi super promosso, e ha coinvolto me, che odio i musical, però questo è fatto bene. Chiudiamo sugli attori, andiamo su quelli meno attesi, tra virgolette. La ragazzina che fa Noodle è molto brava, Hugh Grant ha una piccola parte, Nel Cell sembrava molto più ampia, in realtà, ha una piccola parte, fa Lumpa Lumpa, anche qua non è un film come ce l'aspettiamo, con tantissimi Lumpa Lumpa, non c'è una fabbrica di cioccolato. Cioè, Hugh Grant è ben inserito, compare quasi a caso, dice, ma strano che non c'è Lumpa Lumpa, ha un senso, ha un senso quello che succede. E funziona, Hugh Grant funziona, Olivia Colman sta ordinare a fare un ruolo sporco, cattivo, anche un po' stereotipato, se vogliamo, ma Olivia Colman è Olivia Colman, quindi riesce meravigliosamente a renderlo vero, renderlo credibile con questa ambiguità di fondo che sa anche essere un personaggio, come dire, non solo uno dei cattivi, ma anche con cui possiamo empatizzare. Un po' con tutti i personaggi, benché stereotipati, abbiamo qualche punto di riferimento con cui empatizzare. Un applausone a Timothée Chalamet, che secondo me, io quello dico, il miglior ruolo in carriera fino a questo momento, anche più di The French Dispatch, perché riesce a essere introspettivo nei momenti in cui lo deve essere, in quei pochi momenti, deve essere allegro, spensierato, per far ridere le persone in sala, con il suo No Sense, che è tipico anche del personaggio di Wonka, ma è molto bravo nei balletti, nelle coreografie, in tutto quello che fa. Ed è straordinario questo film, davvero, mi ha davvero convinto, è uno spettacolo vederlo, nonostante non abbia questo aspetto così particolare, originale. Se io penso a Wonka, mi viene in mente Gene Wilder. Non è il tizio strano alla Johnny Depp, non ha questo modo di fare un po' ambiguo di Gene Wilder, ma si sa difendere bene perché è un Wonka ridimensionato, più umano, se vogliamo. Quindi funziona tantissimo, bravissimo Chalamet, e niente, questo, super consigliato. Ragazzi, andate a vederlo, farà un sacco di soldi questo film, perché piacerà a tutta la famiglia, ed è molto meglio della Disney, perché è questo che la Disney cerca di rincorrere. Cioè è un film giovane, fresco, che sappia essere anche al passo con i tempi, con la moda, con l'inclusivismo. Qua c'è un po' di inclusivismo, ma è ben inserito nella trama, dove non ci sono cattivi, che sono solo bianchi e caucasici uomini, ma sono di tutte le razze, quindi vuol dire che il male si ce l'ha dappertutto, non solo con i bianchi, caucasici uomini. Per tutto questo, chiudo qua. Super consigliato, dai, sono contento. Una delle sorprese dell'anno.